Ciao, benvenuta o benvenuto in questo nuovo video, io sono Davide Adriani e prima di andare avanti e spiegarti perché sono passato da questo corpo macchina Nikon a questo corpo macchina Sony voglio ricordarti di andare a visitare il mio sito internet www.diventaunfotografo.com dove troverai la miglior formazione fotografica in Italia troverai sia dei contenuti gratuiti sia dei contenuti a pagamento quindi ti invito a visitarlo, cominci a scaricare i contenuti gratuiti e sono sicuro che troverai un sacco, un sacco di materiale interessante ma ora veniamo all'argomento di questo video perché ho deciso di fare anch'io come tanti altri questo passaggio da Nikon a Sony? per spiegartelo devo prima spiegarti cosa penso io riguardo l'attrezzatura fotografica allora io voglio, qui mi sono scritto degli appunti, ora li guardo la prima cosa, io voglio che quando acquisto un corpo macchina, questo corpo macchina deve stare al mio fianco per un sacco di anni pensa che questa Nikon D800 è il secondo corpo macchina che compro in 14 anni di fotografia io odio dover cambiare attrezzatura perché è uno stress mentale, è una spesa di soldi vorrei limitarlo davvero al minimo punto 2, io non sono una di quelle persone che ama avere un sacco di obiettivi fotografici ho trovato il mio equilibrio con 4 obiettivi 2 ottiche fisse, il 35mm 1.4 e l'85mm 1.8 e 2 ottiche zoom, il 16-35mm f4 e il 24-70mm f2.8 3, a volte ovviamente ho bisogno di anche altri obiettivi spesso ho bisogno per esempio del 70-200mm f2.8 e quindi cosa faccio? Dovrei comprarlo? no, no perché non è giustificata la spesa dall'utilizzo che ne faccio quindi io voglio che il sistema che adotto sia facilmente reperibile nei negozi che affittano attrezzatura fotografica quindi ad esempio se dovessi fare il passaggio al sistema Olympus beh, sarebbe difficile per me affittare attrezzatura in quanto tutti i negozi intorno a casa mia e Barcellona non affittano Olympus quarto punto, a me piace pensare alla mia attrezzatura fotografica come un investimento a lungo termine quindi se oggi decido di comprare un obiettivo da 2000€ beh, voglio essere sicuro che potrò portarmelo avanti per almeno 10-20 anni sarebbe bellissimo 20 anni e per concludere dico che non ho assolutamente alcuna preferenza di brand fotografico sono ovviamente affezionato a Nikon perché ho iniziato con Nikon Nikon fino ad oggi è stata la mia macchina ma per esempio la macchina fotografica che ora sta riprendendo è una Canon questa è una Sony non avrei alcun problema ad acquistare Fuji o qualsiasi altro brand ma ora vediamo perché ho deciso di passare a Sony questa macchina, la D800, da circa un mese, un mese e mezzo ha cominciato ad avere problemi all'otturatore che comunque farò riparare è una stupidaggine questa macchina funziona benissimo però ho deciso di fare il passaggio a sistema meterless perché comunque è il futuro e la scelta più ovvia sarebbe stata quella di passare alla Nikon Z7 che secondo me è veramente un'ottima macchina ma la domanda che mi sono posto è ha veramente senso ad oggi nel 2020 investire in un sistema Nikon? e la risposta per me è stata no e ti spiego perché a novembre 2019 Nikon ha pubblicato i bilanci della società, dell'azienda Nikon per gli azionisti e io a novembre li scaricai se vuoi scaricarli ti lascio in descrizione il link per scaricare i bilanci della società e guardando questi bilanci anche tu puoi accorgerti che Nikon non sta crescendo come dovrebbe Nikon purtroppo è entrata tardi, come anche Canon, nel mondo mirrorless e ora ne sta pagando le conseguenze conseguenze che non sono per nulla leggere e ora sì è facile dire ma a te David cosa frega di come sta crescendo l'azienda Nikon? tu compra la macchina fotografica, vai lì fuori e scatta fotografie e questo è un ragionamento giusto ma ti ricordi cosa ti ho detto prima? io voglio che questo sia un investimento a lungo termine non voglio trovarmi tra un tot anni a dover cambiare ottiche corpo macchina e purtroppo non credo che Nikon starà al passo coi tempi la scelta che faccio oggi sul corpo macchina influenzerà i miei acquisti futuri e ora che mi trovo comunque a switchare da un sistema reflex a mirrorless e anche esistendo un adattatore che mi permetterebbe di usare le lenti che ho acquistato per questa reflex su mirrorless nel tempo comunque switcherei a lenti mirrorless e quindi la domanda è ma se l'azienda Nikon non gode di enorme salute beh, chi mi dice che io avrò la possibilità di fare un investimento a lungo termine e quindi acquistare lenti che mi accompagneranno nei prossimi 10-20 anni ecco, ora ti faccio comparire qui un grafico pam! guarda il grafico e vedi in blu gli incassi di Nikon in rosso i profitti di Nikon e in giallo le spese e se noi guardiamo, negli ultimi 5 anni gli incassi di Nikon sono scesi drasticamente e questo non ci deve meravigliare perché non solo gli incassi di Nikon sono scesi drasticamente sono scesi gli incassi di Canon, di Sony, di tutti i brand fotografici e questo perché? beh, semplicemente perché la gente non ha più bisogno di una macchina fotografica ormai la macchina fotografica è qualcosa che compra chi vuole fare, diciamo, fotografia professionale perché ad oggi con un iPhone, con uno smartphone, abbiamo una macchina fotografica quindi mentre qualche anno fa chiunque per fare foto aveva la necessità di comprare una macchina fotografica oggi chiunque può fare fotografie con il proprio smartphone quindi è normale vedere una discesa negli incassi di un brand fotografico semplicemente perché il mercato si sta riducendo, si sta rimpicciolendo la cosa invece preoccupante è vedere calare i profitti guardiamo ancora il grafico abbiamo detto che è normale vedere gli incassi calare questo perché semplicemente le persone comprano meno macchine fotografiche la cosa preoccupante però è vedere i profitti scendere i profitti sono quelli indicati dalla linea rossa ogni anno vediamo che questi profitti calano e la cosa veramente preoccupante è che il 2020 si prospetta un anno terribile per Nikon sarà un anno in cui i profitti saranno negativi cioè l'azienda Nikon lavorerà in perdita ti faccio anche vedere ora un'altra slide guarda questa slide io ce l'ho qui sul foglio e in questa slide vediamo che nel 2020 si prevede una perdita di 10 bilioni di yen per Nikon cioè circa 80 milioni di euro e questo in Nikon non succedeva da anni e non è un buon segnale Nikon sta perdendo fette di mercato importantissime e questo perché? Perché nel mercato mirrorless sono entrati grandi player come Sony, come Fujifilm, come Olympus che si sono ritagliati un'enorme fetta di mercato andandola a rubare a quelli che erano prima i leader cioè Canon e Nikon un altro dato rilevante ci viene fornito guardando i dati riguardo gli impiegati dell'azienda Nikon dieci anni fa in Nikon erano impiegate 17 mila persone operai, ingegneri e così via ad oggi in Nikon sono impiegate meno di 10 mila persone ci sono stati più di 7 mila licenziamenti in dieci anni e questo non fa presagire a nulla di buono e la cosa che mi ha spinto ora, oggi, a cambiare sistema oggi che ho la possibilità di cambiare in modo meno doloroso perché sto comunque passando da un sistema reflex a un sistema mirrorless è che Nikon dovrà fare dei tagli e purtroppo si prevedono tagli nel reparto ricerca e sviluppo e questo significa crescita più lenta degli altri marchi un marchio come Sony che invece sta aggredendo il mercato sta portando un sacco di novità un autofocus grandioso sensore stabilizzato Panasonic sta facendo grandi cose e quindi non mi piace pensare di adottare un sistema che sta dietro a quelli che ora stanno diventando i leader di mercato e ad oggi ovviamente Canon e Nikon non sono più i leader di mercato come lo erano qualche anno fa la cosa che più mi fa rabbia è vedere che Nikon aveva introdotto il Z-Mount cioè un innesto per obiettivi al posto di questo qui a cui siamo abituati enorme, bellissimo che ci apriva ad una serie di enormi possibilità lenti luminosissime avremmo addirittura potuto adattare alle nostre Nikon lenti di qualsiasi brand e tantissimi altri vantaggi di questo sistema eppure Nikon insieme alle Nikon Z ci presenta pochissimi obiettivi e la punta di diamante è il Noct cioè il 58mm f0.95 che costa circa 7000€ ed è una lente assolutamente inutile è un po' uno di quei pezzi quasi da collezione, da amatore credo anche abbia la messa a fuoco manuale quindi una lente veramente non utilizzabile professionalmente è qualcosa più per feticisti della fotografia e Nikon purtroppo in questi anni ha fatto un sacco di scelte che si sono rivelate sbagliate ha cercato di buttarsi nel mercato delle action camera con il K-Mission ti faccio comparire qua le foto di questi K-Mission e probabilmente non hai mai sentito parlare di queste fotocamere di queste videocamere perché assolutamente non hanno saputo innovare abbastanza da sbaragliare i leader di mercato che sono GoPro, un'altra azienda che non gode di ottima salute e ad oggi anche DJI che sta entrando in questo mercato in modo veramente aggressivo un'altra scelta sbagliata di Nikon fatta diversi anni fa è stata quella di introdurre le mirrorless Nikon One le Nikon Uno delle Nikon non professionali né carne né pesce che non erano un gran che e infatti anche queste non hanno fatto successo poi Nikon ha provato a lanciare sul mercato le Nikon DL e le Nikon DL anche sono state un flop clamoroso pochissime vendite pochissimi profitti tantissime perdite e ancora ripeto questo Noct 50mm f0.95 immagino che sia costato un sacco da sviluppare ma non è una lente che vende quindi immagino anche qui le perdite siano state consistenti ecco ad oggi è indiscusso che i marchi che si stanno muovendo meglio nel mondo fotografico sono Sony, Fujifilm, Panasonic e qualche altro a mio parere la Sony è migliore è più avanti e quindi per questo ho deciso di investire in Sony che sembra essere un'azienda un po' più sana con più futuro e chissà il tempo ci dirà se ho speso questi 4000€ per questo corpo macchina in modo oculato ho fatto una grandissima stupidaggine io sinceramente spero che Nikon sappia innovare come faceva qualche anno fa e sappia tornare tra le aziende leader di mercato lo auguro anche a Canon e il futuro ci dirà qui sotto mi farebbe piacere leggere quali sono i tuoi commenti se approvi questa scelta se tu sei un Nikonista mi farebbe piacere sapere cosa ne pensi e in un prossimo video spero di provare insieme a te questa nuova macchina fotografica ci vediamo nel prossimo video ricordate di visitare www.diventaunfotografo.com a presto